Ci si lascia un periodo alle spalle bello faticoso, Presidente, però insomma tutto ricomincia il 31 di agosto. Qual è la novità che ci può raccontare così proprio dell'ultima ora? Sì, di novità ce ne sono diverse in effetti. Hai detto bene, ci siamo lasciati proprio in questa posizione durante il Covid, con questa presa in esame di quello che avevamo fatto con questo protocollo. E' andato tutto bene, abbiamo fatto non so quanti allenamenti con tutti i ragazzi, è andato tutto perfetto. E' stata una fatica in mane, però ne valeva la pena perché i complimenti che ci sono arrivati dai genitori, cosa che difficilmente avvengono, testimonia il fatto che abbiamo fatto un buon lavoro. Ora abbiamo preso un attimo di fieri, abbiamo aggiustato un po' il palazzetto che aveva qualche problema di parquet di aggiustamento e lunedì ripartiamo il 31 con tutte le categorie. Quindi siamo abbastanza in ansia perché ancora non c'è una direttiva chiara di come, numeri, quanti, eccetera, eccetera. Comunque cercheremo di attenersi a quelle che sono le regole che abbiamo sempre aspettato. Questa novità della Serie D? Bene, questa allora te la do in anteprima. Stamattina avevamo fatto una richiesta alla federazione in quanto, essendo saliti di categoria l'anno scorso con la Serie C Silver in C Gold, avevamo chiesto la possibilità con la seconda squadra senior della promozione di salire in Serie D. Questo perché per quanto riguarda la nostra società è importante per i nostri ragazzi perché c'è un divario di meno categorie e quindi affronterebbero già quelli che sono predisposti poi a salire in categorie nella prima squadra ad affrontare un campionato abbastanza più vicino. Questo per noi è il ripagamento di un lavoro molto intenso, è difficile spiegarlo, però è una grandissima soddisfazione il fatto che ci hanno comunicato e che ci hanno assegnato la Serie D. Ecco, però voi siete molto forti anche nei settori giovanili, tanti bambini, tanti ragazzi che aspettano di ripartire. Ecco, ci ha detto che ancora le regole non sono molto chiare, però insomma mi sembra di capire che potrete garantire l'attività agonistica. Sì, abbiamo ricostruito, almeno così sembra, 19 squadre anche per quest'annata. Stiamo pensando di chiedere a qualcuno di darci una mano perché ovviamente il problema è anche quello della gestione delle cose, perché ci vogliono un po' più spazi, ci vogliono degli orari che non si accavallino con gli altri, quindi non so di preciso ora come verrà, però insomma so che il nostro segretario ci sta lavorando e quindi c'è una voglia veramente grossa da parte delle famiglie di riprendere l'attività normale e noi faremo di tutto per fare questo, però ovviamente sempre con un'attenzione particolare a quella che è la sicurezza. Con allenamento a porte chiuse, oggi per chi, Presidente? Insomma troviamo due giovani promesse, li possiamo chiamare così. Beh oggi si è fortunata, devo dire la verità, sì oltre a quello della Serie D, insomma oggi abbiamo qui proprio per un mantenimento fisico due dei nostri ragazzi che sono nati e cresciuti nella nostra società e che per fortuna loro e anche nostra sono partiti per le, diciamo, per le alte categorie. Una di questi è Paolo Zanini che è partito diversi anni fa, abbiamo fatto una comproprietà con Livorno, ha giocato a Livorno in tutte le giovanili, negli ultimi anni delle giovanili e già da due anni che fa e gioca in Serie B e quest'anno la notizia molto bella è il fatto che sia stato preso da un'altra società di Serie B che è chiusi, una società molto grossa legata a una società di Serie A e quindi ha firmato il contratto anche per la prossima stagione, questo colosso è lui insomma. Che periodo è stato per chi appunto fa dello sport, quasi la sua professione, è stato un grosso sacrificio questo anno con il Covid? È stato un anno complicato per tutti i punti di vista, sia nel giocato, comunque tenersi allenati, è stato parecchio pesante, però fortunatamente sembra che la fine si avvicina e vediamo la luce in fondo al tunnel, ecco possiamo tra un poco ritornare a giocare, allenarsi e questa è una cosa che va assolutamente in secondo piano ma aiuta tante persone a prenderla con meno pesantezza questa situazione. Questo è un altro ragazzo della SBA, questo è al 100% della SBA, è un ragazzo del 2001, Matteo Tersillo, nell'ambiente molto conosciuto perché un po' tutte le società più importanti lo vorrebbero, è come la sora Camilla, tutti lo vogliono, nessuno lo piglia, però in questo momento c'è molta attenzione su di lui, un ragazzo che abbiamo dato in prestito negli ultimi tre anni a Bassano, se non sbaglio quattro forse, quindi ha finito le giovanili in quel di Bassano e quest'anno comincia l'avventura senior, quindi diciamo che ci sono molte società che lo stanno contendendosi, quindi bene, io sono felice che comunque questa è casa loro, quindi vengano a mantenersi fisicamente pronti in questo periodo un po' fermo e quindi sono contento anche di presentare sia lui che Zanini perché sono due prodotti, scusa la parola prodotto, ma proprio del territorio nostro. Che esperienza è stata? Se ti guardi un attimo indietro, insomma quella con la SBA e poi ovviamente adesso sei proiettato per il futuro, però qual è il ricordo più bello che hai degli anni della tua formazione? La SBA sicuramente ci ho passato la mia infanzia, il ricordo più bello è stato quando siamo arrivati con lo spareggio per la prima volta, poi perso contro l'Aquila a Roma con il coach Umberto Vezzosi, questo è il ricordo più bello che mi è rimasto impresso. Per la tua carriera ora che cosa ti auguri, visto che sei così conteso? Mi auguro di riuscire a sboccare e di riuscire a coronare il mio sogno che è inseguo fin da bambino.